Cari amici e telespettatori romagnoli, riprendiamo il nostro appuntamento quindicinale in dialogo con l'Europa. Cinque minuti insieme ogni due settimane nei quali aggiornarvi sul mio lavoro a Bruxelles e a Strasburgo. Per molti l'Europa è lontana, è un oggetto misterioso, per altri addirittura è la causa di tutti i nostri problemi, di tutti i mali. La verità è che l'Europa nel bene e nel male siamo noi. Noi siamo un pezzo bello dell'Europa. Vogliamo far conoscere e promuovere l'Europa che ci piace, l'Europa delle opportunità, l'Europa della speranza. Le ultime settimane non sono state facili. Abbiamo assistito praticamente in diretta dai nostri uffici qui al Parlamento a Bruxelles ai tragici attentati alla metropolitana, all'aeroporto di Zaventem. Attentati che hanno aumentato il nostro senso di insicurezza, di paura, di incertezza per il futuro. La sfida folle del terrorismo è una sfida mondiale, una sfida globale e deve trovare una risposta a quel livello. Ci vuole più Europa, un'Europa unita con un corpo, un sistema di intelligence comune a livello europeo, uno scambio efficace di informazioni, di dati. Questa è l'unica strada per garantire la nostra sicurezza. Dobbiamo inoltre potenziare i controlli ai confini esterni, dobbiamo sapere chi entra e chi esce in Europa, anziché alzare inutilmente muri dentro ai confini, dentro ai confini dell'Europa al nostro interno. L'immigrazione infatti non è un'emergenza, ma è un fenomeno duraturo, destinato a durare, che va governato e gestito e non va subito. Senza dimenticare che i giovani che si sono fatti esplodere, come bombe umane a Parigi e a Bruxelles, sono figli nostri, sono nati in Europa, con un passaporto europeo. Dobbiamo ripensare le nostre periferie, i quartieri delle nostre città, a come favorire l'integrazione nel rispetto delle nostre leggi e dei nostri valori. politici. Intanto la migliore risposta che si può dare a chi vuole seminare il terrore e cambiare il nostro stile, il nostro modello di vita è continuare a lavorare, a fare ciascuno ogni giorno il proprio dovere. Nella Commissione Politiche Regionali del Parlamento Europeo ci stiamo confrontando, per esempio, su come sostenere le nostre piccole e medie imprese nel creare nuovi posti di lavoro, la sfida dell'occupazione per i nostri giovani in Europa. Io ho proposto, in rappresentanza del gruppo dei socialisti democratici europei, di promuovere il ruolo delle imprese di natura cooperativa. Le cooperative che hanno retto meglio la crisi, che ci hanno aiutato in questi anni di difficoltà a creare opportunità per i nostri ragazzi. Un pilastro importantissimo le cooperative del nostro territorio. Fondamentale inoltre è anche aiutare le micro imprese con meno di dieci dipendenti che rappresentano oggi la maggioranza delle imprese in Romagna. È necessario favorire le reti di impresa per sostenere l'innovazione, l'internazionalizzazione, semplificando e riducendo l'onere della burocrazia. È importante anche incoraggiare il ricambio generazionale, la trasmissione di impresa, penso al turismo, l'agroalimentare. Ecco, per seguire il mio lavoro e per essere aggiornati sull'attività del Parlamento europeo, vi invito ad andare sul sito www.damianozoffoli.it, dal quale potrete anche iscrivervi alla mia newsletter. E a proposito di imprese, nel sito è disponibile, da scaricare in maniera gratuita, una guida pratica su quali sono i finanziamenti che l'Europa mette a disposizione delle imprese su come accedere a tale opportunità. Per ogni euro che l'Italia trasferisce al bilancio europeo, solo 60 centesimi ritornano al nostro paese. C'è molta disinformazione e spesso le nostre imprese rinunciano a presentare progetti. La Romagna Unita deve e può avere più forze in Europa. Abbiamo idee e progetti da proporre per essere sostenuti e finanziati. Un caro saluto e al prossimo appuntamento in dialogo con l'Europa. Al prossimo appuntamento in dialogo con l'Europa.